Attorno a un tavolo si siedono filosofi intellettuali storici che provengono dal nord e dal sud del mondo per lettere su un possibile documento in cui mettere insieme le diverse esperienze di umanità che ci sono nel mondo. Convivialità e dialogo tra i popoli, un summit internazionale di filosofia incardinato sui temi dei saperi della società del XXI secolo. Si tratta del primo appuntamento dell'agenda G7 in Puglia, l'evento che vedrà il suo culmine nel vertice dei leader mondiali a Borgo Ignazia dal 13 al 15 giugno prossimi. Si confronteranno le maggiori figure intellettuali provenienti dai paesi del G7 per la preparazione di un documento sul tema dell'interculturalità. Nel riconoscimento dell'altro, nell'abbracciare l'altro, nel fare dell'altro non un oggetto ma un soggetto, il primo passo per riconoscerci esseri umani e quindi totalmente insieme nella partita, nei confronti della realtà, nei confronti della natura. Durante le due giornate, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, gli ospiti internazionali si confrontano in mattinata a porte chiuse nel Castello Svevo, mentre in serata al Teatro Curci sono previste discussioni aperte seguite da momenti di confronto. Proporrà e sosterrà le ragioni di un'apertura sempre più interculturale nella ricerca scientifica, nella ricerca filosofica e anche nell'educazione dei più giovani. Intanto cresce l'attesa per il summit di Borgo Ignazia e se da un lato a Brindisi si definiscono le misure di sicurezza, da Roma emergono i primi contenuti del confronto. La presidenza italiana del G7 ha messo l'intelligenza artificiale tra le sue priorità, ha fatto sapere la premier Giorgia Meloni.